A Giudlo, Monica Bellucci e Vincent Riotta sono stati assegnati Pegaso d'Oro alla carriera per la sezione cinema della 48esima edizione dei premi internazionali a Nioflaiano. I tre attori di fama internazionale saranno a Pescara il 4 luglio per ritirare i riconoscimenti nel corso della cerimonia che si svolgerà al Teatro Monumentale d'Annunzio. Evento che sarà seguito in diretta su Reteotto, così come la serata del 3 luglio, dedicata alla sezione narrativa italianistica. Questa mattina al Media Museum la presidente dei premi Carla Tiboni, alla presenza dell'assessore regionale alla cultura Daniele Damario, dell'assessore del consigliere del comune di Pescara Maria Rita Paoni Saccone e Piero Giampietro, del sindaco di Guardia Grele Donatello Di Prinzio e degli sponsor della manifestazione, ha reso noti i nomi di tutti i vincitori delle sezioni cinema, teatro e televisione. I Flaiano ormai sono cresciuti e continuano a crescere, quindi c'è la volontà, il piacere, la gioia dei grandi attori, grandi registi, grandi sceliggiatori di essere presenti a Pescara per ritirare i premi, quindi credo che sia nell'ordine delle cose organizzare la manifestazione nel migliore dei modi, sperando che il Covid non ci crei ulteriori problemi, tanti quanti ce ne ha creati fino ad oggi, però va bene così, la 48esima edizione si fa all'insegna direi non soltanto della ripartenza, anche della spensieratezza, ci sarà il festival che inizia il 26 giugno che riporterà il cuore e gli occhi al cinema. Nella sezione cinema gli altri premiati sono Edoardo Ponti per il film La vita davanti a sé, che vede protagonista la madre del regista Sofia Loren, insieme al giovanissimo attore senegalese Ibrahima Gueye, a cui è stato assegnato il premio della presidenza del Flaiano. Alessandro Gasman e Massimo Ghini ricevono il Pegaso d'oro per l'interpretazione maschile, rispettivamente in Non odiare la volta buona. Carolina Crescentini per l'interpretazione femminile nella Bambina che non voleva cantare, che racconta la storia della cantante Nada, Gianluca Iodici e Andrea Cavalletto per la regia e i costumi del film Il Cattivo Poeta sulla vita di Gabriele D'Annunzio, riconoscimento a Francesco Bruni per la sceneggiatura del film Cosa Sarà, ad Alex Infascelli per la regia del documentario su Francesco Totti. I nomi dei vincitori del concorso, opera prima e seconda, invece, saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione. Per la sezione teatro i premi alla carriera sono stati attribuiti agli attori Remo Girone e Laura Marinoni. Per la sezione tv, riconoscimenti a Gianluca Maria Tavarelli per la regia della fiction Chi amami ancora amore, a Giordano Meacci e Francesca Serafini per la sceneggiatura di Carosello Carosone, Pegasodoro per la migliore interpretazione femminile all'attrice Cristiana Capotondi. La sezione giornalismo vede premiati Bernardo Valli e Sigfrido Ranucci, vice direttore di Rai Trek e conduttore del seguitissimo programma Report.